Grazie a tutti, abbiamo parato in Spinoza Strat e abbiamo constatato che abbiamo una fila molto lunga di auto che sta andando in Spinoza Strat per andare in direzione di Kentucky, come si può chiamare, famiglia di San Francisco ma lo che è ironico è che non si parla con il tráfico che non si sta tanto a prendere qui, abbiamo in Spinoza Strat e questo è quello che si parla con l'altro cammino che sta andando in Spinoza Strat e anche in Spinoza Strat una parte che sta andando in Spinoza Strat e in Spinoza Strat per andare in attraverso un altro cammino per andare in attraverso la forma e la gestione necessarie questo è quello che stiamo illustrando che il sistema che sta andando in Spinoza Strat sta attraverso più inconveniente per gli automobili. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.